La Di Marno Group nasce nel 1986 da un'idea dei tre soci fondatori Giovanni Di Marno, Pasquale Di Marno, Donato Di Marno Sino all'inizio hanno iniziato con la commercializzazione di prodotti per pasticceria, gelateria e panificazioni però il loro intento non era di vendere un prodotto in sé ma vendere un'idea del prodotto Da sei anni a questa parte l'azienda ha approcciato un nuovo mercato, il settore Oreca con la commercializzazione di prodotti quali carni e pesce freschi e surgelati Sono Francesco Salvatore, responsabile commerciale di Tracce Tech, partner Passpartout Il cliente Di Marno per noi è una referenza importante, seguito sin dalla fine degli anni 90 è un cliente che è cresciuto con le soluzioni Mexal e con quelle che sono state le successive integrazioni con verticalizzazioni e prodotti aggiunti successivamente Sono Raffaele Clemente della Zerodo La Zerodo è un'azienda, una software house che ormai da un decennio si occupa di mobilità quindi produciamo software nel campo della raccolta ordini, della tentata vendita, della logistica di magazzino delle assistenze tecniche quindi il nostro focus è da sempre incentrato sull'ottimizzazione dei parchi aziendali in mobilità che lavorano all'esterno delle aziende Ormai da diversi anni collaboriamo con partner Passpartout sui nostri clienti, sui clienti di partner cerchiamo di ottimizzare al meglio e di fornire software che possano nel concreto risolvere le problematiche aziendali Con il passare del tempo abbiamo riscontrato la necessità di avere una migliore gestione della nostra contabilità e del nostro magazzino allora da 15 anni a questa parte abbiamo deciso di affidarci a Mexal di Passpartout tramite Mexal riusciamo a gestire in maniera ottimale la contabilità e tutti i movimenti di magazzino in entrata ed uscita dopo l'approccio del nuovo settore Oreca da parte della nostra azienda abbiamo avuto la necessità di affidarci a un nuovo sistema per gli ordini in entrata ed uscita per quanto riguarda gli ordini d'entrata ci siamo affidati a Paddy Order i vantaggi di questo sistema sono una veloce gestione degli ordini un maggiore controllo da parte dell'azienda degli stessi per quanto riguarda invece Paddy Picking ci permette di gestire in maniera efficiente tutti i documenti emessi dal nostro gestionale in entrata ed uscita oltre a una migliore tracciabilità di lotti e scadenze transitati nel nostro magazzino le necessità software con le quali ci siamo confrontati per l'azienda di Marno sono state in prima battuta quella di avere una gestione raccolta ordini da portare sul territorio con la flotta agenti la possibilità di gestire il dato online ed offline la possibilità di avere una situazione chiara del magazzino in qualsiasi momento per una corretta e veloce gestione degli ordini le soluzioni Paddy Order e Paddy Picking della Zerodo hanno risposto al meglio a quelle che sono state le richieste dell'azienda di Marno che oggi continua a crescere e ad evolversi con le soluzioni Passpartout all'interno di Di Marno Group abbiamo installato due soluzioni della suite Zerodo la prima dedicata alla raccolta ordini quindi agli agenti e parliamo della nostra soluzione Paddy Order la seconda dedicata alla logistica di magazzino quindi la nostra soluzione Paddy Picking WMS entrambe le soluzioni hanno avuto un focus collaborativo con il partner Passpartout che ci ha consentito di andare a risolvere quelle che erano le esigenze del cliente sul primo prodotto le esigenze erano quelle effettivamente di avere un prodotto robusto stabile a livello di comunicazione con il gestionale con una user experience molto vantaggiosa e intuitiva per i venditori per la seconda soluzione quindi quella insomma di logistica anche qui abbiamo installato la nostra soluzione Paddy Picking WMS che ci ha permesso di efficientare, ottimizzare i magazzini andare a gestire delle esigenze specifiche del cliente ovvero la gestione dei pesi variabili, l'ottimizzazione dei lotti, delle scadenze e anche l'automatizzazione completa del deposito numero 2 con insomma delle esigenze anche di temperatura estrema in quanto parliamo di surgelato e quindi con un'operatività degli uomini all'interno abbastanza complessa possiamo dire che sia con la collaborazione con il partner Passpartout sia come Zero Do abbiamo raggiunto totalmente gli obiettivi all'interno dell'azienda Grazie a tutti